Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con questo video aggiornamento Oggi hanno dato una nuova notizia, quella di farming Praticamente hanno annunciato un nuovo DLC Che includerà oltre a mezzi anche mappa Una nuova mappa originale, tutto stile montuoso Aggiungono oltre 30 mezzi e marchi Qui sotto abbiamo qualche nome della Erlengrant Che sarebbe il nome della mappa Sembra anche bella, devo dire, a prima vista Da queste 4-5 foto che abbiamo disponibili Di conseguenza uscirà un nuovo update L'1.7 Che dovrebbe preparare il gioco per la nuova mappa Che sicuramente Mario andrà ad aggiungere la nuova mappa E sistemare chissà qualcosa Il costo è di 20€ come più o meno il solito E secondo me insomma li rende bene Allora hanno aggiunto praticamente questo nuovo marchio Un marchio a me ancora diciamo era sconosciuto Rigitrack Fanno parte di un'azienda svizzera Che produce una cinquantina di trattori all'anno Quindi un'azienda piccolina Addirittura abbiamo anche un trattore elettrico Questo qua piccolino Sono trattori che sono un po' più lunghi Del solito Però tendono ad essere molto più bassi Come vedete sembra tutto ribassato Appunto perché dovendo lavorare sempre in collina Devono avere una stabilità maggiore Oltre a questo Qui abbiamo qualche altra foto Sempre della mappa Ci danno un po' di veicoli Allora abbiamo un classico BCS Diciamo ecco Proprio per spiegarvi Abbiamo la serie di trattori 50, 75 e 150 cavalli Sicuramente Mario potrebbe essere Che ne aggiungano qualcos'altro Abbiamo Small tractors Che fa parte dei piccoli attrezzature Sempre per la lavorazione Come avete visto dalla foto Ecco qua Per esempio Ranghinatura Del fieno Abbiamo questo piccolo veicolo Che è un multifunzione Perché vi permetterà di agganciare Per esempio Spandilettame Botti Maricassoni Quindi Un veicolo un po' versatile E piccolino Compatto Giusto per andare Appunto sulle zone Sulle zone montuose Coming soon Perché ovviamente Stanno lavorando Il DLC Verrà lì lasciato Il 12 novembre Quindi insomma Siamo il 19 di luglio C'è ancora un bel po' di tempo Da aspettare Sicuramente Devono finire di sistemare Tutti i mezzi E molto altro Comunque vi danno inoltre Un aratron Stirpatore Con il rullo Dietro Vi danno Una dischiera Seminatrice Combinata Queste abbiamo visto prima Tutta la serie Di falciatrici Laterali Posteriori Frontali Vi danno Voltafieno Voltafieno un po' più grandi Ranghinatori Questa qua Windrowers Vabbè Sempre il ranghinatore Ah Tipo quelli è tappeto Altri ranghinatori Altri ranghinatori E dopo i cassoni Eccolo qua Sempre questo Che si può attaccare Al veicolo Che avevamo visto sopra Caricafieno Caricatori Autocaricanti Imballatrice Tonda Come vedete La fanno anche questa qua Sembra un po' più Sembra un po' schiacciata Rispetto Le solite Imballatrice Tonda E Imballatrice Tonda Con l'aggiunta Di Della volgitore Della volgiballe Le fasciatore Scusate Non mi veniva La parola E un carrellino Utile per portare Sicuramente Il BCS Ecco Sembra promettere bene E Speriamo Appunto Poi Insomma Ne valga la pena Sicuramente Dopo Quando uscirà Può darsi Che venga fatta Mario Perché no Una serie Dato che una mappa nuova Di un DLC Che include Anche un bel po' di mezzi Una mappa montuosa Che da tanto Che non Ne facciamo qualcuna Potrebbe essere Sicuramente Spunto Di nuove Nuove serie Nuove scenette Detto questo Non vi rubo Altro tempo Che dire Ci rivedremo Sicuramente Più avanti Tra qualche mesetto Quando magari Avranno Completato Il tutto Per Diciamo così Fare un video Di finitura Oppure ci vedremo Direttamente Col video di presentazione Appunto Del DLC Commentati Iscrivetevi Lasciate un bel like Tenetevi pronti Per i prossimi video Ciao a tutti E alla prossima Ciao ciao